Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il ritrovamento di quattro corpi rivela l'entità devastante dell'incendio che ha colpito un complesso residenziale a Valencia. Oltre 20 squadre di soccorso sono mobilitate nella speranza di trovare eventuali dispersi, ma la speranza si affievolisce con il passare delle ore. 14 persone sono rimaste ferite, compresi 9 uomini e 4 donne. 5 vigili del fuoco sono in ospedale, ma fuori pericolo. L'incendio, di vaste proporzioni, ha coinvolto due edifici di 14 e 10 piani nel quartiere Campanar. Le fiamme, partite al settimo piano, si sono propagate verticalmente e poi lateralmente, complici il vento e la struttura. Il premier Pedro Sanchez ha espresso solidarietà, ringraziando le squadre di emergenza. La sindaca Maria Osecatala ha dichiarato il lutto ufficiale. La ministra spagnola di Scienza, Innovazione e Università, Diana Morant, ha espresso cordoglio. L'incendio ha generato una colonna di fumo nero visibile a 30 chilometri di distanza, complicando i soccorsi. L'ipotesi del poliuretano nel rivestimento come possibile accelerante del fuoco è oggetto di indagine, mentre si cerca ancora di comprendere l'origine delle fiamme e la loro rapida diffusione.